Grazie a tutti. Geremia Tierno, state lavorando a questo album che uscirà a Natale e stasera presenterete dei pezzi. Poi magari ce ne parla la cantante Sonia Vanacore che con Gianni Gargiulo fa parte di questa formazione. Noi siamo una formazione particolare, da poco ci sta un cantante nuovo, con un vecchio disco c'era un altro cantante. Siamo una formazione, un collettivo quasi. E ti dicevo, raccontami come siete nati. Siamo nati da una vecchia esperienza di un altro gruppo, un paio di elementi di Disneylandia, di Idèi e qualche elemento del blues napoletano storico. E man mano abbiamo messo giù vari esperimenti, sempre con contaminazioni di blues, funk, rock. E così siamo andati avanti e è cresciuta questa cosa. La partecipazione all'AWOP, che senso ha per te? È un senso importantissimo. Noi siamo sempre molto attenti alle tematiche come queste qui della World of Peace. Sia rispetto all'anniversario della caduta del muro, ma anche a tutte le tematiche di solidarietà e di partecipazione, sia sul territorio, alle tematiche specifiche del territorio, che quelle globali, quelle mondiali. Grazie, Geremia. Accanto a me c'è Sonia Vanacore, che è una curista. Quattro pezzi presentati stasera, ricordo l'orario, alle 23.30 in Piazza Maione. Sì. Praticamente i pezzi sono una storia, che diciamo è un pezzo italiano. Poi abbiamo un pezzo molto importante, che è la Iatta Nera, seguito poi da Bungie Jumping, che è molto importante come pezzo perché è molto ritmatico, molto allegro. Quindi stasera si balla? Sì, si ballerà, sì, si ballerà. E poi c'è Europe di Bombay, che è un pezzo veramente molto significativo, lo capirete poi ascoltandolo. Sono tutti, sono due brani, sia la Iatta Nera che l'Europe di Bombay, sulla realtà napoletana, molto particolare. La Iatta Nera è stata sigla su Rai Radio 1 per due mesi di un programma di Michelle Pergolani e Renato Marengo. Ha avuto un bel riscontro, infatti noi abbiamo anche vinto l'award della Rai, di Demo Rai 1, alla Mezzia Terme con questo brano proprio. È stata una bella esperienza, una bella situazione. Bravi, quindi aspettiamo che esca questo album nuovo che esce, dovrebbe uscire per Natale. Gianni Gargiulo invece è l'autore delle musiche. Funky, blues, un po' di contaminazioni rock, insomma alla fine cerco di mettere un tappeto sonoro alle loro idee, insomma i loro concetti. Ricordiamo l'appuntamento di stasera? Stasera alle 23.40 dovrebbe essere l'appuntamento in piazza Maioni. Allora, veniamo tutti, veniamo a ballare con la voce di Sonia, le musiche di Gianni Gargiulo e la batteria medica di Geremia Tierno. In bocca al lupo. Calendario vi ricordo sul sito www.ewardofpeace.net Grazie Grazie